Un saluto a tutti gli amici abbonati e benvenuto a questo appuntamento video dedicato a un sito molto interessante che molti conoscono perché l'ho già utilizzato in alcune analisi, altri meno probabilmente siete abituati a seguirmi con Soccer Stats e alla fine sono passato a Footy Stats e prima di tutto l'ho conosciuto proprio perché mi aveva presentato un utente parlando così di siti in generale e poi perché all'interno dello staff lo usiamo ultimamente per quelle che sono un pochettino di analisi abbiamo deciso di metterlo in prima linea per una playlist per esempio come il mappamondo, campionati e quant'altro e questo lo vediamo solitamente quando vado a presentare i campionati che mi piacciono adesso nella fase iniziale dei tornei stiamo aspettando che entrino almeno in un giro di 5-6 giornate per avere un pochettino di statistica perché come dice il nome questo sito si basa ovviamente sulle statistiche ma noi lo prendiamo in considerazione per una funzionalità molto interessante che è nella sua completezza disponibile solo in abbonamento potete usufruire di una parte free io adesso sto sfruttando la sezione in abbonamento e vi dico anche che in descrizione al video trovate un link con il quale collaborazione, partnership, chiamatelo come volete con la quale praticamente se decidete di provare anche la versione a pagamento quindi di sfruttare tutte le funzionalità che vi da potete poi avere un'interessante diciamo scontistica ulteriore sull'abbonamento relativo ai bot e servizi in generale e comunque anche eventualmente chi tra gli abbonati per esempio decidesse, se non ce l'ha ancora, di prendere la guida 3.0 che dal mese di settembre torna ai suoi prezzi base dopo l'offerta che abbiamo lanciato per tutta l'estate allora questa funzionalità si basa praticamente su di default almeno a livello di come la scelgo io su una base di forma delle squadre fondamentalmente prende in considerazione diversi parametri ovviamente più le partite che prendiamo in considerazione hanno un determinato numero di partite alle spalle più ovviamente questo parametro sarà interessante e soprattutto è interessante se si prendono in considerazione nei campionati qui abbiamo già fatto una scelta di tornei più interessanti non è necessario andare dietro a vedere chissà quanti tornei soprattutto dal mio punto di vista qui stiamo parlando solo ed esclusivamente di statistiche in questo momento non parliamo di ASEAN quindi le statistiche più accurate secondo me e più interessanti arrivano dai tornei principali avete l'opportunità anche di scaricarvi quel file praticamente in CSV che vi permette fondamentalmente di avere sotto mano il tutto perché attenzione ogni giorno che il sito appunto fa i suoi update quindi cambiano vengono giocate le partite il dato viene aggiornato quindi voi potreste aver selezionato una partita fondamentalmente che aveva una determinata impostazione poi il giorno dopo non c'è più e quindi questo è importante tenere in considerazione perché il sito è in continuo aggiornamento come vedete dashboard divisa per campionati di default questo parametro poi andremo a vedere altre cose interessanti con altre applicazioni in generale le statistiche che ci interessano di più perché di lato trovate ovviamente la lega la partita con l'impostazione appunto di default della forma con i parametri indicati le quote offerte dai bookmaker più si va su campionati scarsi più potete non trovarle importantissimo il rapporto forma quota e il pronostico che vi può interessare io qui avevo un over 0.5 attivo perché praticamente stavo seguendo anche live perché le possiamo ordinare anche per match in live invece se lo prendiamo di default prendiamo i due mercati più liquidi l'over 2.5 e il goal entrambe in generale vedete che l'impostazione è già attiva se prendete il giorno di riferimento per fondamentalmente quasi una settimana e quindi come funziona footy stats allora qua ripeto qui non stiamo andando a vedere tutti gli studi dei campionati le cose che facciamo di solito andiamo a vedere una funzionalità disponibile in parte gratuitamente in parte in maniera totalmente a pagamento perché vi mostra tutti i campionati il parametro della forma lo si può usare in tantissimi modi come lo trovo interessante io solito discorso come funzionalità come vedete il dato relativamente alla forma è espresso a livello numerico e con una colorazione le colorazioni che ci interessano sono il rosso scuro e il verde scuro fondamentalmente che ci definiscono il massimo per i valori di default impostati della forma e il minimo quindi fondamentalmente due squadre che rapportando il discorso di partite giocate sono più o meno in forma come sapete io ho un debole per le squadre casa perché? perché ovviamente e qui prendo in considerazione il mio metodo ML dei bot ovvero il metodo relativamente a la doppia chance 1-2 una squadra a casa tendenzialmente in un range di quota 1-42 che è una quota investimento interessante tende a vincere la propria partita in casa la maggior parte alle volte capita che perda perché magari si espone al contropiede perché cerca di vincere la partita quindi le squadre a casa sono anche importanti perché ovviamente giochi nel tuo stadio adesso che è passata l'epoca del covid o perlomeno il più grosso alle spalle siamo tornati ad avere gli stadi pieni quindi il fattore del pubblico c'è sempre dal punto di vista arbitrale magari è un po' una leggenda però comunque la squadra a casa è un pochettino più tutelata soprattutto le squadre di un certo blasone comunque voglio dire giocando in casa il fattore capo per me è il vantaggio più tangibile che ci può essere anche solo quando magari c'è mal tempo come viene innaffiata l'erba come viene tagliata come vengono tracciate le linee tutti i piccoli trucchetti piccole cose anche i raccatta palle come ti restituiscono la palla più o meno veloce insomma mille cose a livello generale che mi fanno preferire le squadre case quindi questo parametro verde scuro di massimo forma mi interessa per esempio per le squadre case quando mi interessa quando si incrocia con un parametro totalmente rosso cosa vuol dire squadra massima forma squadra forma scadente Friburgo boccom partita della Bundesliga nella giornata di oggi che sto registrando vedete questo parametro non è come le Asia Notes che cambierà da qui a sera il parametro è consultabile per i giorni quando e come volete dovete solo fare attenzione a quando andate a fare una ricerca classica di backtesting in past che trovate ovviamente che magari questo dato è cambiato perché si è aggiornata la partita ma finché non giocano il dato è consultabile in futuro e non cambia mai perché ciò che va ad alimentare la sua impostazione sono le partite giocate abbiamo delle quote 1,43 4,25 5,80 100% di over 2,5 100% di BTTS mi interessa relativamente la quota 1,43 è una quota in generale che posso trovare interessante o meno in chiave investimento qui con diretta c'è anche il report che mi racconta di più sulla partita mi mette anche in evidenza le statistiche c'è stata una media di 3,15 partite all'arco di 20 scontri diretti considerando entrambi i primi due campionati della Germania solo una di quelle partite si è concorso con un pareggio a reiti bianchi quindi quel discorso per esempio del BTTS dell'over 2,5 molto molto interessante in generale se poi andiamo a vedere comunque la Bundesliga in questi parametri non ha molte partite alle proprie spalle se non probabilmente anche il discorso poi amichevoli eventualmente la Coppa di Germania non so se pare qualcosa ha giocato nel rapporto di forma che viene preso in considerazione perché comunque non è tutto sulle stesse partite soprattutto adesso comunque Bocum 3,12 gol subiti 0 punti Friburgo una sconfitta 2 vittorie 6 punti a prima vista ci sta quota 1,43 qui non abbiamo preso ancora in considerazione il discorso Asin comunque questa partita la mettiamo nei preferiti di giornata e ce la mettiamo lì quota 1,43 ripeto potremmo fare anche un discorso diciamo così in chiave generale solito ricerca per esempio anche di una value bet qui vado un attimino a divagare ma voglio sempre farvi vedere i mille modi di ragionare che uno può avere comunque Bundesliga noi siccome le value bet non si trovano all'ultimo momento principio inverso nei corsi sopra trovate di più principio inverso delle Asin qui si gioca di anticipo per esempio se ci interessa il Friburgo la quota media è 1,47 in generale qui già abbiamo 1,53 adesso un x bet qui risulta chiuso ma non penso assolutamente più ne con l'1,50 comunque avere in ogni modo una quota 1,53 adesso Interwet o comunque lo stesso un x bet che non penso sia chiuso qui ha già una quota interessante in chiave value poi solito discorso quante strategie ci sono in exchange punta con ovviamente cashout immediato al vantaggio oppure posso sempre giocarlo con un'idea che comunque la squadra più forte sblocchi il risultato prima oppure potrei aspettare semplicemente che queste partite che a volte vengono viste come troppo scontate magari invece si sblocca nel secondo tempo quindi giocare over generico o giocare addirittura il gol della favorita nel secondo tempo se la partita non si è sbloccata le strategie sono molte poi secondariamente entrerà in scena Asin scorrendo andando avanti con le partite potenzialmente interessanti vedete queste partite non ci interessano per esempio l'Uesca ha il parametro sotto attenzione chiedo scusa vi ho detto i colori ma anche i valori è importante dire io prendo in considerazione squadre da 2 in su quindi 2.00 no almeno 2.10 e sotto 1 quindi 1.00 no quindi siamo 2.30 0.90 è molto interessante quindi vedete che qui qui ho dei parametri interessanti ma ho di fronte una forma color giallo color verde chiaro non mi interessa qui per esempio l'ho su trasferta non mi interessa qui comunque squadra molto bilanciata qui doppio rosso non mi interessa e via così qui ho una verde 2 ma 2 comunque non lo prenderai in considerazione comunque colore giallo in generale eccoci qua è un'altra partita interessante ma che diciamo ci pone già un limite perché abbiamo 2.50 valore veramente molto alto Polonia serie B e 1 che non è un valore che mi piace cioè non è che non mi piace siamo sempre lì se noi ci diamo delle regole dobbiamo essere almeno 0.90 c'è da dire che è molto alto questo valore quindi questa partita qua guardate le quote 2.51 3.36 2.67 sono quote altine quindi per esempio se voglio limitare il rischio su una doppia chance o vedere come va live qui posso fare uno strappo alla regola come sempre il metodo quando ci si crea delle regole è oggettivo quindi questa partita oggettivamente da regole mie perché non sono regole che ha impostato qualcuno sono regole che sto seguendo io sarebbe da scartare però vista la portata delle quote e qui entriamo nel discorso soggettività vista la portata delle quote la assegniamo perché la portata delle quote è effettivamente interessante però magari invece che pre-match ci si può fare dei ragionamenti in live qui la partita che non rientrerebbe nei parametri è comunque col vantaggio trasferta e quindi non mi interessa in generale qui ecco un'altra partita Slovacchia Zilina 2.33 quota 1.75 attenzione perché non è detto che la forma porti delle quote scarse assolutamente la forma può portare anche delle quote molto interessanti proseguiamo con la ricerca prendiamo in Slovenia qui Cegli e Goretz 1.56 2.00 qui non è perfetta perché la segno perché abbiamo veramente uno sbilanciamento forte verso l'altra squadra però ricordiamoci da parametro questa solo live perché pre-match non rispecchia i criteri proseguendo con cosa ci propone il sito sono tantissime leghe arriviamo alla B del Belgio e onestamente è pure una serie B 2.10 1 le quote sono interessanti io diciamo la butto dentro perché magari in live comunque il Belgio come dire è un campionato che secondo me può essere sempre preso in considerazione in generale dunque era addirittura Dender Standard EG2 eccola qua insomma diciamo che mi piace ben ben poco però stiamo facendo comunque una selezione selezione mettere in watch list lo dice la parola in osservazione non vuol dire giocarla questa per esempio serie B austriaca con queste quote una trasferta onestamente io la seguirei anche questa ho detto solo casa però strada facendo mi rendo conto anche delle leghe un'Austria voglio dire perché no alla fine ripeto siamo solo in in watch list non stiamo facendo nulla però ripeto il metodo come l'ho creato io perché non è un metodo creato da qualcuno ovviamente utilizzatori in giro per il mondo di footy stats ce ne sono e comunque alla fine penso che il ragionamento base vari in relazione a quello che uno cerca io nel momento che vedo qualcosa impostato a casa per esempio questo è interessante 1,14 però così sbilanciato tra l'altro su trasferta per me non ha senso non la prendo neanche in considerazione quindi se proprio devo fare uno strappo alla regola lo faccio a livello generale a Ktobe 1,31 Kazakistan insomma 1,31 non è di certo la quota che noi investitori amiamo prendiamo in considerazione almeno da 1,40 però voglio dire 1,31 è una base di partenza vuoi dire che segni subito per esempio magari no e quindi via così un amichevole parametri interessanti Qatar-Jamaica non ha nemmeno le quote presenti non la prendo in considerazione poi arriviamo a queste leghe inglesi e qui attenzione qui iniziamo a scendere su campionatini a mio avviso veramente di bassa portata questo diventa veramente soggettivo io ad esempio queste leghe inglesi qui non le amo tanto non le vado a mettere in watch list stesso discorso per i divisional della Germania ci sono si trovano partite interessanti in generale come ho inserito delle partite extra parametro leggermente qui anche per esempio andare a 19 non ha nemmeno le quote non la prendo in considerazione qui abbiamo la B slovena quota 1,60 Kyrka Bistriza tra Slovenia B e leghe inglese minori insomma la Slovenia rientra almeno nella serie B quindi diciamo il livello ovviamente dell'Inghilterra è chiaramente superiore in termini di paese e di campionato però secondo me una Slovenia serie B potrebbe avere un pochettino più senso vedete che i campionati che abbiamo selezionato la lista è veramente lunga e siamo praticamente a un venerdì parliamo di un 300 partite però ormai stiamo scendendo e poi ci sono i famosi campionati che non abbiamo preso in considerazione che però uno volendo se li va a mettere quella poi è l'impostazione che volete io ho un metodo mio sui campionati inferiori basato proprio sulla povertà per modo di dire i Burundi paesi più poveri del mondo così come la Bolivia l'abbiamo visto tante volte personalmente potrebbe essere una Lega che con determinate situazioni da prendere in considerazione le africane hanno sempre qualcosa da dire però secondo me questo è più da metodo Asiem fatta questa cosa quindi selezionate le partite io davanti a me ho otto match in watch list basati sul criterio della forma da seguire con il loro orario Slovacchia Kazakistan Polonia e Austria B Slovenia B Belgio B Slovenia e Bundesliga otto partite con questo criterio qualcuno mi dirà posso fare una multipla con un certo criterio dove si può giocare la doppia chance dove si può giocare l'overcasa dove si può giocare l'uno posso addirittura creare una multipla io non la amo però avete dei bonus su qualche bookmaker da spendere questo è un buon modo per crearsi una multipla in chiave investimento invece si può optare per due tipi di discorsi o si gioca in exchange o in scommessa classica per esempio scommesse asiatiche il famoso drone o bet o l'handicap asiatico parzialmente rimborsabile dove trova delle quote interessante e si gioca pre-match e sfruttando le quote si cerca comunque di giocare a una quota possibilmente superiore al valore che ci è stato indicato in chiave value bet oppure si aspetta live e in live si va ovviamente ad aggiungere la stringa asiatica stringa asiatica che ora non apro perché tutte partite lontane nel tempo quindi non abbiamo interesse la stringa asiatica ci può dare dei parametri per esempio la partita del Friburgo contro il Bokum potrebbe uscire un parametro da gol primo tempo per esempio potrebbe uscire un parametro che quindi la partita qui rischia di sbloccarmi subito entro subito in generale la partita magari della Polonia che ha delle quote molto molto alte però a livello asiatico mi può dare un vantaggio sulla squadra casa quindi magari giocare solo il gol casa potrebbe avere valore ed essere interessante può comunque giocare partite che non finisce in pareggio over generico se nel primo tempo termina 0-0 se mi esce magari un setup minuti finali e magari mi esce su una partita tipo l'Austria B o la Slovenia B ci sto attento chiaramente perché potrebbe essere che nel finale se la partita sta in pareggio un over generico cioè anche il setup minuti finale mi viene fuori posso confrontarle con i segnali del bot o il fast discorso HT o determinati altri tipi di segnali per esempio ho visto anche che Footy Stats mi segna il gol entrambi in una certa portata magari mi esce un segnale del Super 2T magari il Super Blue e la partita sta in pareggio quindi comunque posso abbinarle in tanti modi comunque questa selezione può essere utilizzata veramente in una maniera interessante la parte free di Footy Stats non vi da tutte le partite che vi ho fatto vedere ve ne da molte meno per cominciare a provarlo può essere interessante vi volete abbonare trovate praticamente un link in descrizione che vi permette anche di abbonarvi a questo sito e usarlo in maniera veramente professionale e poi potete anche avere degli sconti su tutta quella che è la mia diciamo produzione tra l'altro solo al momento per abbonati vi annuncio questa cosa avendo la guida 3.0 e avendo rinnovato tutti i livelli del canale YouTube è rimasto fuori tanto materiale diciamo andato in archivio materiale che non propongo più a livello di vendita ma rimane materiale reale frutto di ricerche di studi di quant'altro per chi fosse interessato a visionare questo materiale da abbonato ho deciso di fare un'offerta su un numero di quasi 200 video che fanno parte tutto della costruzione del metodo asiatico una sorta di archivio generale lo voglio dare solo a persone che più o meno mi conoscono e che hanno seguito i miei corsi o che comunque magari non riescono a prendersi il corso principale o magari insomma in generale amano molto la sperimentazione fatta di studi che ho fatto con i video passati questi video non si troveranno mai più sul mercato fino alla fine dell'anno quando poi magari uscirà una nuova variazione della guida sono a disposizione ovviamente questo discorso qualcuno può dire ma possono essere considerati superati superati mai eventualmente ci sono avvenute delle migliorie però veramente può essere interessante per qualcuno sfruttare del materiale in archivio che ha un valore di una certa portata ripeto c'erano per esempio i corsi base avanzato ultra avanzato le analisi palinsesto quindi tanta teoria tanta pratica questa è una cosa che per ora annuncio solo agli abbonati del canale mi potete contattare direttamente per questo e se vi abbonate per esempio a Futistats con il link in descrizione c'è un ulteriore sconto anche su questo materiale molto interessante come sui bot come sul 3.0 generico quindi adesso poi il video lo sospendo e lo riprendiamo a fine diciamo serata e quando avremo tutti i risultati delle partite andremo a vedere eventualmente come ovviamente potevano esserci delle situazioni interessanti inutili come sempre preparare una lista e poi lasciarla a vostra discrezione andiamo direttamente a vedere così ci rendiamo conto anche delle potenzialità e capiamo magari con anche la stringase a disposizione se c'erano delle modalità operative ripeto finora per questa parte video se qualcuno volesse agire prematch le opportunità sono tre costruirsi una multipla personalmente non consigliato ma si può fare con determinati criteri agire in exchange se ci piace effettivamente una partita con l'idea che la quota possa anche scendere magari in questo caso dando un'occhiata alla stringase in come si presenta in generale oppure creare proprio la ricerca di una value bet così a occhio personalmente diciamo il Friburgo potrebbe essere interessante e trovare una quota interessante può avere del valore value bet stiamo su campionati alti se non fosse sotto 1,40 l'actobe mi piaceva dal Kazakistan come un value bet e magari potrebbe essere interessante creare una combo per un raddoppio giornaliero più che la multipla per esempio che ne so trovo una buona quota il gol casa in Polonia lo abbino al Friburgo o addirittura un gol primo tempo Friburgo oppure cerco un paio di partite da over 2,5 in generale potrebbe essere interessante insomma la combo rispetto alla multiple può essere valida questo è quello che vi dico nel pre-match adesso poi proseguendo con il video andremo a vedere anche con il post-match ed eccoci qua per vedere alla fine la nostra selezione come è andata e se avevamo diciamo delle opportunità interessanti prima partita segnalate che aveva tutti i parametri lo Zilina 2-0 anche qua possiamo vedere il gol subito al nono minuto e il gol praticamente al settantesimo noi ovviamente qua puntavamo sul risultato quindi comunque alla fine sbloccandosi subito magari poteva essere una quota comunque interessante anche il pre-match perché alla fine siamo sull'1,57 euro bet era una quota di investimento interessante poi il solito discorso exchange andavi subito in cash out gol primo tempo andavi in cassa tendenzialmente sono le giocate principali l'actobe che mi piaceva molto 1-0 anche qua mi pare ha dato un calcio di rigore forse presto esattamente al sedicesimo Kassim che è lo stesso nome tra l'altro il presidente del Kazakistan qui la dà 1,45 su FUTY STATS l'avevo vista 1,30 non sarà salita di molto diciamo qui comunque vale sempre il discorso chiaro che si segnano presto a meno che non le prendiamo il solito discorso exchange oppure ci accontentiamo della quota investimento alla fine in ogni modo alcune quote sono bassine se vanno subito diciamo nella direzione giusta non ci danno grosse opportunità questa era la partita con i parametri non allineati cosa vuol dire i parametri non allineati che comunque c'erano quote alte ma non c'era il sopra 2 casa e sotto 1 trasferta l'ho detto la teniamo d'occhio poteva essere interessante da 1x e da gol casa 1x è finita gol casa no mi sembra che c'è stato un gol trasferta annullato avevo dato un'occhiata detto questo vedete che già il parametro non allineato non era granché questa è un'altra partita su trasferta io vi ho detto trasferta non mi piacciono dava valore lì e praticamente è finita addirittura a 4x2 tra l'altro il pop mio la segnava anche come alert di giornata sul 2 quindi era pure un blocco di quota parliamo di Austria B più le partite sono scadenti meno c'è interesse è finita a 4x2 ci sono stati anche parecchi gol nella parte finale del tempo comunque proprio nel finalissimo esatto un 94x 86x94 che capita spesso nei segnali alert partite che anche se già decise segnalo comunque alla fine però appunto per i parametri che abbiamo scelto non andava bene Kerk invece Slovenia B l'avevo preferito per esempio ad alcune serie minori inglesi questa segna nel secondo tempo la quota era salita di molto partenza da 1.57 questa era una bella bet una 0 andata a segno questa era un'altra non allineata perfettamente lega che diciamo non mi piace ma la quota era interessante qui nel secondo tempo questi tipi di lega poteva un over 0.5 generico però insomma pro league belga non mi faceva impazzire ve l'avevo detto comunque voglio dire non è che adesso se qualcuna non segue i parametri non entreranno mai tutte però qui l'unico modo di giocarla era con l'over 0.5 il cedì incredibile segnale che avevamo dato anche nel canale official partite che era anche dove 1.5 segna sul rigolo al 95 questa ecco era la bet di giornata fondamentalmente qui saliva sicuramente tanto giocare l'over generico giocare il gol casa per chi comunque ha preso anche prematch una quota discreta e ci stava pienamente quindi tutto sommato poteva andare bene Friburgo oppure questa quota 1.43 bello che il primo tempo è finito 0-0 quindi la quota è salita sicura verso 1.80 abbiamo sbagliato un rigore sulla respinta ha segnato subito nel secondo tempo 1-0 quindi praticamente quelle allineate perfette sono andate tutte a segno e hanno avuto tutti dei parametri interessati ovvio che poi si poteva andarle diciamo a scegliere con i parametri asian andando quindi a leggere tutte le indicazioni anche pre-match ora adesso ho delle impostazioni mie che stavo seguendo altro quindi si andavano comunque a cercare in generale last game potevano esserci ecco il Friburgo voglio dire chiamava comunque una giocata doppia chance 1-2 quindi comunque l'over generico il bank alla X voglio dire era sempre un discorso interessante quindi doppia chance 1-2 chiamava addirittura due più gol il gol casa lo chiamava 1-0 per esempio nel finale quindi anche questa diciamo sicuramente interessante questa che è finita 0-1 poi chiamava una regressione chiamava un under già come abbiamo visto non mi faceva impazzire nella scelta in generale poi quelle che avevamo ancora alcune io onestamente tendo a seguirle con il valore che mi dà Futistaz poi se ha una giocata interessante come setup la vado a prendere in considerazione come ha detto il Friburgo aveva valore da quel punto di vista lì ce l'aveva il Ceglio sicuramente quindi diciamo che erano molto molto interessanti quelle per esempio quelle trasferta le ho messe lì solo da da seguire ma in realtà non avevano nulla di interessante perché trasferta secondo me provina un pochettino la strategia quindi personalmente non insomma c'erano poi ci sono state nella giornata anche altre partite sicuramente segnate delle leghe minore ma come vedete non le seguo ecco per esempio volevo arrivare a questa qui vedete 1X 1X da configurazione con un aumento spread casa ma come vi dico sempre lo 0,25 sullo 0,0 è il peggiore che c'è a partita non sbloccata quindi comunque non era assolutamente interessante quindi questo ci evitava magari di dare il valore alla bet attenzione poi quello che vi dicevo adesso vedete il sito praticamente sta aggiornando tutto nuovamente vedete il Friburgo che non la dà ancora conclusa quindi appare ancora perché poi tende a vedere i parametri perfetti la partita essendo anche vinta il parametro non cambia ce ne può essere qualcuna che poi dopo andandola a ricercare adesso dovremmo far aggiornare la pagina perché ormai mette solo questo o andarci a cercare le singole leghe questo va fatto il giorno dopo che potrebbe avere i dati cambiati vedete per esempio il dender eccola qua il dender con lo standard l'ieg2 è cambiato completamente il dato perché è finita 0.1 ma come l'abbiamo vista era invece non correttissima al limite ma poteva andare quindi attenzione a questo però se scaricate il file in csv non potete fare errori perché vi rimangono così come dovevano essere a livello generale poi sì alcune le ritrovate anche qua però per farle aggiornare correttamente bisogna aspettare il giorno dopo e vi può capitare qualcuno lo potrebbe dire ma attenzione come mai è cambiato il parametro in realtà cambia perché si aggiorna sulla base dei risultati che si sono portati avanti abbiamo visto per esempio il caso del dender in generale quindi in questa situazione vedete il celia addirittura ha vinto questa era veramente fantastica poi non sono segnato nel finale queste sono un po' come le doppie chance 1-2 più che ancora come i minuti finali quindi assolutamente alla grande quindi dal mio punto di vista footy stats è uno strumento fantastico con questa funzione lo dovete usare correttamente la mia strategia è quella verde sopra 2 casa contro rosso sotto 1 trasferta poi qualcuna la possiamo mettere in watch list vediamo il discorso questa ecco vedete nonostante non l'ho ancora aggiornato scusate mi ero contro lo zaglebi sì no scusami questa non era una partita di giornata ok niente guardavo io comunque al di là di questo sì no ok era quella perché cambia i nomi però non ho ancora aggiornato il risultato comunque come vi ho detto ecco dove era il parametro errato l'1 cioè non era ancora sotto 1 quindi sono proprio al limite abbiamo messo lì in watch list poteva essere interessante da doppia chance da altre cose va bene tutto quello che volete però la strategia perfetta è quella poi può essere smischiata con asian con i volumi con le strategie che volete comunque footy stats sotto vi do il link di affiliazione se volete fondamentalmente aprirvi un conto a pagamento farvi comunque un abbonamento non un conto e poi mi scrivete avete diritto se volete abbinarci qualche bot per le giocate per avere ovviamente degli sconti quindi comunque poter usufruire in generale anche di qualche agevolazione quello che vi posso dare sui miei prodotti ovviamente anche da solo funziona bene ma dal mio punto di vista io ci aggiungo sempre qualche mio ragionamento in più adesso per esempio anche in live vi dicevo la situazione può essere monitorata anche in live se uno vuole e vi fa vedere tutti gli orari adesso comunque molte partite sono praticamente finite rimane poco in aggiornamento per esempio qui diciamo non c'erano partite che potevano essere da parametri nemmeno questa vista trasferta comunque lega che non mi piace eccetera eccetera poi il giorno dopo quando vi passa il today sugli ester potete verificare ma come vi dicevo non ha più senso allora a quel punto meglio scaricare il discorso del del csv qui è già pronta fondamentalmente anzi non è pronta esatto la giornata perché adesso finché non aggiorna dovete aspettare dopo mezzanotte quando completa il tutto altrimenti no ok match per lì ero sul live ok il tomorrow ve lo dà già completamente eccolo qua già col weekend vedete tutte le partite del weekend premiership championship bundesliga eccetera eccetera e qua nel weekend è un grande aiuto perché sicuramente vi dà un casino di partite perché poi tenete conto uno mi può dire diciamo a livello generale uno mi può dire ok magari me ne bastano anche della versione free però magari non riesce a entrare quindi avere 5-6 partite contro 15 questo giustifica la versione a pagamento adesso per esempio mi balza l'occhio su queste due sfide qua per esempio il Milan-Bologna con una quota 1.30 con il parametro che non rientra non la prendo mai Juve-Roma con queste quote qua non mi piace perché è trasferta però i parametri sono giusti ma invertiti me la metto lì in watch list me la studio magari te ne so per una scommessa asiatica anche drone o bet magari potrei giocare una Roma spread zero cioè poi le idee vengono fuori comunque analizzatevi anche voi in ogni modo dal mio punto di vista veramente una grande funzionalità tutti stuts sostituisce soccer stuts per quel che riguarda anche la nostra ricerca del mappamondo perché come vi dicevo i campionati poi dopo andate a fare il giro delle leghe e ha veramente statistiche super anche per poi gli amanti di cartellini di corner comunque sono cose che a livello statistico sono sempre utili quando si studia le partite e poi ovviamente questa funzionalità qua veramente eccezionale poi ovviamente da un punto di vista invece puramente chiamiamolo pratico sicuramente lo abbinerei o a volumi di mercato in chiave exchange voi sapete noi usiamo betwatch oppure alle asia nord ovviamente i setup come avete visto per esempio in queste configurazioni qua la polacca bloccata 0 a 0 non la toccavo neanche nemmeno per l'over 0.5 a livello generale la belga anche mi piaceva poco se invece erano molto interessanti per esempio le prime due che abbiamo visto quella del Friburgo e per esempio quella del Ceglie lo Slovenia era fantastico questo per messa su official per il setup per esempio ma comunque a provare un'over successivo era veramente stupida quindi da questo punto di vista qui vedete che si possono fare veramente cose molto molto interessanti insomma fatemi sapere come sempre la vostra un like al video ovviamente nei commenti e quant'altro se volete vi condividerò anche andando poi alla ripresa diciamo regolare dei campionati con almeno i campionati principali con 5-6 giornate di attivo per avere statistiche molto più precise faremo anche magari delle rubriche proprio dedicate per tempo ovviamente per gli abborati dove vi vado a condividere la sera prima le partite e poi voi le andate a confermare in chiave age non volete abbonarvi per dire al software con l'abbonamento classico intermedio del mio canale andrò a mettervi soprattutto nelle fasi dei campionati più interessanti quindi weekend venerdì sabato e domenica i video a disposizione quindi c'è anche questa scelta insomma vi fate sapere come sempre col vostro gradimento io vado a costruirvi una rubrica nuova molto molto interessante che poi rimane da confermare con le age oppure avete uno sconto sui bot che vi vanno a loro volta a confermare i setup più interessanti magari su partite che avete già in watch list io come sempre vi ringrazio appuntamento ai prossimi video ciao a tutti